Amici e amici carissimi bentornati, siamo insieme per una nuova puntata del ciclo di catechesi da non senso alla vita di cielo, se non mi sbaglio questa dovrebbe essere la quindicesima dove dobbiamo oggi affrontare un altro tema importante per la conoscenza e la comprensione del nostro mondo interiore in attesa poi di confrontarci dovrebbe essere lo step successivo tra quello che siamo e quello che ci stiamo conoscendo e riconoscendo tra quello che siamo e il disegno meraviglioso che diva su ciascuno di noi e quello che siamo davanti ai suoi occhi che dovrebbe essere il tema appunto delle prossime puntate, della prossima, delle prossime, prima poi di iniziare il percorso perché il senso di questo nostro itinerario, faccio una piccola introduzione, è semplicemente questo, noi siamo semplicemente lontani dal nostro vero chiamiamolo se o dal nostro vero io, le scuole insomma lo chiamano in maniera discordante e contrastante, cioè noi a parte che non ci conosciamo ma siamo assolutamente distanti da quello che siamo e quindi tutto quanto il nostro cammino si tratterà prima di prendere coscienza anzitutto della situazione attuale, a questo servono questi primi incontri, cercando anche di raccapezzarci se ci lavoriamo un pochino di che cosa mi porto dietro, quindi quali sono tutte quante le ferite, le zavorre, i bagagli insomma che mi porto dietro. Poi ci sarà la presentazione di chi è l'uomo, l'uomo con la U minuscola e l'uomo con la U maiuscola. Ecco, in questi giorni ho riletto una frase del grande San Giovanni Paolo II che diceva così, se il verbo si è fatto uomo è bello essere uomo e vale la pena di vivere. Se ci pensiamo è un quanto mai vera una cosa di questo genere perché poi vedremo che noi abbiamo da considerare la nostra identità così come uscita da Dio e così come pensata da Dio e anche la realizzazione perfetta della nostra umanità, cioè dell'essere uomo, e dell'essere donna, che noi abbiamo due perfezioni assolute, si chiamano Gesù e si chiamano Maria, cioè Dio fa le cose fatte bene quindi non ha ricreato soltanto un uomo perfetto anche se è l'uomo Dio insomma, quindi il nostro Signore Gesù Cristo è vero che è l'uomo Dio ma attenzione è vero uomo quindi per il fatto che la sua natura umana sia unita ipostaticamente alla seconda persona del verbo, attenzione non cadere nelle eresie del monofisismo, d'accordo? che diceva sì, sì è uomo però, guardate che vogliamo parlare, è Dio quindi la sua umanità che 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 no no, la Chiesa ha sempre assolutamente combattuto il grande San Leone Magno, Dio lo abbia in gloria, tanto ce l'ha sicuramente perché anche la Chiesa l'ha chiamato Magno e grande fautore del concilio di Calcedonia ha detto no no no, sì c'è un solo soggetto, certamente, che è il verbo eterno del Padre ma ci sono due nature distinte, quella divina e quella umana, ciascuna perfettamente operante con le proprie caratteristiche per cui l'umanità di Gesù non è un'umanità fittizia o a metà o apparente, è l'uomo con la U maiuscola certamente ma è l'uomo e Maria Santissima è la donna con una D maiuscola diciamo una D diversa diciamo così perché non è una D, come dire, derivante da presunte divinità inesistenti insomma di Maria per natura ma è la donna piena di grazie, la tutta piena di Dio per grazie evidentemente di cui è stata ricormata fin dall'istante della concezione e dietro queste due figure ciascuno di noi può e deve ritrovare se stesso un uomo perfetto assomiglia a Gesù Cristo una donna perfetta assomiglia ad una donna certamente, è come dire, qualunque sia il nostro stato di vita una donna evidentemente, qualunque sia, alcuna persona evidentemente sposata può assomigliare a Gesù che sia maschio e una donna sposata può e deve assomigliare alla Madonna non significa necessariamente dover ricalcare, anche perché sarebbe impossibile proprio fin nei minimi dettagli il tutto ma la sostanza sì, quindi dovremo confrontarci dopo questa puntata primo sul progetto di Dio sull'essere umano quindi come l'uomo in quanto tale è pensato da Dio quello che avevano i nostri progenitori, quello che hanno perso e quello che hanno mostrato poi Gesù e Maria è che c'è tutto quanto restituito perché nel nostro processo di guarigione, conversione e liberazione c'è solo una possibilità di uscirne fuori restaurati rinnovati, rilanciati, nobilitati, deificati ditelo come volete spalancare le porte, quello diceva sempre San Giovanni Voro II però l'abbiamo già citato a Cristo a tutti e due anche se in maniera evidentemente differente assoluta Cristo, subordinata e dipendente alla Madonna ma vedremo che sono entrambi importanti diversamente importanti nel nostro percorso di conversione, guarigione, liberazione santificazione, divinizzazione, deificazione fino ad aggiungere proprio alla vita di cielo come si intitola questo ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo sappiamo bene ci stiamo muovendo dentro questo arco che è un arco che potremmo descriverlo più come un arco come un iperbole sapete che l'iperbole parte dal basso dopodiché si slancia verso l'alto in maniera indefinita l'iperbole non finisce mai quindi si impenna verso l'alto dove finirà? dove Dio vuole basta che si vuole in alto ecco allora oggi abbiamo un passaggio fondamentale che è quello delle relazioni come vi accennavo anche oggi prenderò un riferimento come già la volta scorsa per quanto riguarda i meccanismi di difesa in parte ma ancora di più per quanto riguarda due puntate fa quando abbiamo parlato della quadripartizione dell'Io il testo di Don Giuseppe Sovernico Amare con tutto il cuore lui praticamente cosa fa? descrive diciamo così il nostro campo relazionale quindi come noi ci relazioniamo con ciò che è intorno a noi soprattutto persone ma anche cose modi di essere modi di fare eccetera eccetera attraverso la metafora dei territori una metafora molto bella quella dei territori ma noi sappiamo benissimo che tutti noi abbiamo uno spazio vitale d'accordo? che è e c'è qualcosa che ci gira intorno chi entra in contatto con noi non necessariamente entra in contatto con il nostro spazio vitale allora che tipo di realtà trova quindi che tipo di dinamiche io vivo instauro con il prossimo soprattutto allora Don Giuseppe fa diciamo così uno studio in cui individua fondamentalmente otto tipi di territorio sono tanti sono anche qui vale quello che ci siamo detti per esempio sui temperamenti a suo tempo cioè non è detto che ci sia come dire una coincidenza al 100% una linea di demarcazione ben definita anche per alcuni territori sono contigui per esempio il territorio rincea il territorio cortezza presentano dei punti di contatto anche il territorio prateria il territorio rattrappito d'accordo anche il territorio debordante il territorio intasato presentano dei punti di contatto l'importante è che noi focalizziamo fondamentalmente quali sono le nostre strutture e le nostre modalità perché anche qui è un po' come la parabola evangelica del seminatore no? c'è il seme sulla strada c'è il seme sulle spine c'è il seme sul terreno sassoso noi dobbiamo essere terra buona anche qui c'è un territorio evidentemente fruttifero quando Gesù dice in questo è glorificato il padre mio che portiate molti frutti e diventate i miei discepoli quale sarà un territorio fruttifero? un territorio fruttifero è quello che è capace di accogliere come dire tutto il positivo che ci viene dal prossimo di stornare di 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 saper amministrare gestire il negativo che viene dal prossimo e anche da noi stessi e al tempo stesso è capace di tirare fuori tutti quanti i propri daventi quindi di mettere a disposizione di Dio della Chiesa del prossimo della società del consorzio civile i doni che ci portiamo ma i doni sappiamo che sono potenzialità che noi abbiamo che devono uscire fuori e devono uscire fuori in maniera bella, vediamo che ci sono alcuni territori che i doni veri o presunti che hanno li sbattono in faccia, li impongono diciamo così al prossimo e non diventa più insomma una cosa possibile o fattibile diventa una sorta come dire di di violenza che non va bene ecco, allora andiamo brevemente ad analizzare questi territori credo che riuscirò anche per questa puntata a tirar fuori un pdf dove ci saranno un po' le slides per poter riprendere alcuni punti essenziali non tutto quello che dirò però una schematizzazione delle varie come dire, fasce territoriali in cui può suddividersi la nostra personalità, allora il primo il primo territorio è quello apparentemente bello cioè che chi lo incarna dice ma questo quanto è buono quanto è pieno d'amore verso tutti è sempre disponibile eccetera eccetera quindi bello apparentemente sembrerebbe bello si chiama il territorio prateria allora che cos'è questo territorio? come dice il termine stesso le metafore sono molto belle no? una prateria qui sulla slide vedete anche una foto insomma di una di una prateria sconfinata dove ci stanno dei cavalli al pascolo è appunto per definizione terra di nessuno quindi dentro una prateria ci può entrare chiunque non ci sono non ci sono recinti non ci sono confini può andare chiunque a mangiare a bere scorazzare fare quello che vuole senza nessuna come dire modalità di accesso senza neanche bussare senza neanche chiedere permesso allora chi è questo territorio? chi è questa persona? è la classica persona alerta a tutti piace una quindi che piace a tutti che accontenta tutti che dice sempre di sì è super disponibile magari fa volontariato in 100 miliardi di cose nella Caritas nel non so dove nell'ospedale non so dai sul vai in terra di missione a fare i mesi o i due mesi in Africa perché tutte e quante cose attenzione si capisca buone ok poi sembra molto molto generoso d'accordo sembra molto generoso sembra che si spende sembra che dia però dietro queste cose ci sono dei problemi uno è la persona che non è capace di dire di no ma ha capito? cioè ci sono delle circostanze in cui noi dobbiamo dire di no non possiamo dire di sì dobbiamo dire di no è chiaro che non sempre si deve dire di no fondamentalmente noi siamo per il sì ma a volte bisogna dire no come dice Gesù nel Vangelo il vostro parlare sia sì sì no no quindi una delle interpretazioni accreditate di questo passaggio di questo logio di Gesù è quando è sì è sì ma quando è no è no io non potrei mai d'accordo? non posso per compiacere qualcuno a consentire o fare un peccato non lo posso fare questo territorio purtroppo è capace di farlo non per malizia ma per un eccesso di bontà questo è il primo problema il secondo è la paura di deludere io temo di deludere chi mi sta dinanzi e dietro questo timore di delusione in realtà c'è una ricerca di affetto di consenso Don Giuseppe usa nel testo del libro non c'è sulla slide addirittura un problema di questo territorio può arrivare ad essere la la chiama la leconeria insomma capiamo che significano quindi l'adulatore quindi quello che va come dire a blandire e a lodare anche l'inqualificabile insomma no ecco dietro questa modalità ci può anche essere una grande paura di rimanere da soli una grande carenza di identità cioè tu chi sei quali sono le cose importanti in cosa credi per cosa sei disposto a giocarti la vita e quindi grosse inconsistenze nella personalità che non sono certamente aspetti positivi tutto questo viene in qualche modo camuffato dentro questa apparente personalità solarissima super disponibile apertissima generosissima volenterosissima e che concretamente fa tante cose belle e buone ma ci sono questi ma ok passiamo adesso come sempre che capita alla versante opposto il territorio trincea quindi la prateria è via benvenuti a tutti senza limite senza il territorio trincea e qui non si entra trincea non solo non si entra ma se ci si avvicina troppo io ti prendo a schioppettate come si dice ferialmente perché la trincea viene scavata perché poi uno si alza col fucile se qualcuno si avvicina si spara ecco capiamo subito cosa c'è dietro la metafora no? pensiamo alle persone alle personalità che si difendono da tutto e da tutti che considerano l'altro come un potenziale non solo nemico ma come una minaccia come una persona che mi può fare del male quindi va tenuta a debita distanza pensiamo siamo le persone iperpermalose che si offendono subito che non accettano per nessun motivo una critica o una correzione dentro questo territorio ci sono personalità gelosissime e possessive di cose e di persone detto fra me e voi preti compresi d'accordo? quindi guai a chi li tocca gli altri sono sempre tenuti a debita distanza e si ha inoltre una atavica diffidenza si è diffidenti non ci si fida se non di pochissimi e mai pienamente altra cosa si è ipercritici persone che stanno sempre a criticare tutto e tutti se qualcuno sbaglia criticelo condanna senza appello se Dio fosse così il paradiso penso che sarebbe popolato cioè dal nostro signore Gesù Cristo dalla Madonna dagli angeli che sono stati buoni da subito e poi abbiamo finito insomma se qualcuno sbaglia condanna senza appello d'accordo poi quando queste persone si trovano a dover relazionarsi con un gruppo nel gruppo non interagiscono attraverso degli apporti quindi portando il proprio il proprio punto di vista la propria ricchezza la propria posizione con calma con carità con rispetto no più che apporti si portano attacchi o a altri membri del gruppo o a persone comunque strane quindi c'è una verve ordinariamente polemica inserita dentro contesti relazionali conditi di gelosia rivalità e invidie che sono tutte quante sindrome infantili chi è il geloso per antonomasia il bambino tutti quanti l'abbiamo visto io e i figli non ce l'ho c'ho nipoti primo figlio che è tutto bene appena nasce il secondo figlio chi viene prima è geloso del neonato questo è proprio come dire è quasi universale d'accordo quindi è una forma di infantilismo però tutto questo chiaramente nasce da un rito terra ecco perché tutti i discorsi che stiamo facendo poi sono sempre abbastanza ci si arrivano concatenati cosa c'è dietro questo modo di viver c'è una persona che è stata non si è sentita amata non si è sentita amata e quindi si percepisce come non amabile quindi non pensa di poter essere in qualche modo amabile sia nell'otempore quindi sia adesso e quindi è impossibile installare una relazione serena positiva e propositiva con il prossimo una variante di questo territorio trincea è il territorio fortezza che cos'è il territorio fortezza dentro il territorio fortezza c'è sempre una situazione profonda di non accettazione di sé quindi ci può essere una situazione simile a quella appena vista cioè non ci si è sentiti amati stimati valorizzati o si è stati variamente feriti sotto questo punto di vista allora che cosa succede la persona comincia a autocostringersi ecco perché fortezza a mete perfezionistiche attenzione che dentro questa variante anche alcune cose belle buone e sante se vissute in questo modo e con questo spirito diventano controproducenti il nostro signore Gesù Cristo ci ha detto nel Vangelo siate perfetti come è perfetto il vostro padre che è nei cieli e noi dobbiamo tendere alla perfezione evangelica non però attenzione il discorso è molto sottile io spero di riuscire a farmi comprendere un conto è tendere serenamente a quella perfezione che il signore ci presenta quindi ma non perché se non sono perfetto io devo andarmi a conquistare l'amore del prossimo se non sono perfetto non sarò amato ma no perché camminare verso la perfezione è una cosa bella la vita sarà sempre più bella cioè il bello che già c'è diventerà sempre più bello anche qui la mortificazione l'ascesi cristiana non è un dire no alle cose belle della vita assolutamente perché le cose belle della vita noi dobbiamo imparare a prenderle in rendimento di grazia nei confronti del signore le privazioni le mortificazioni le venitenze che i santi fanno che hanno fatto non hanno come dire attenzione come finalità una sorta di autopunizione come se io non ne fossi degno come se io mi dovessi in qualche modo punire perché non vado bene cioè devo diventare perfetto perché non vado bene mi devo in qualche modo punire perché non vado bene no non è questo il senso della mortificazione cristiana non è questo il senso della penitenza cristiana la penitenza cristiana è un processo di liberazione dalle scorie del peccato di riparazione propositiva di crescita non ha come dire come background il disprezzo della vita o delle cose belle della vita la vita e le cose belle della vita vengono da nostro signore non vengono cioè non sono da disprezzare è chiaro che dentro il contesto della vita terrena segnata dal peccato si può e si deve praticare attenzione ma la mortificazione è la penitenza cristiana non la mortificazione è la penitenza distruttiva che per esempio i direttori di spirito devono fare molta attenzione d'accordo perché se una personalità di questo genere conviene a chiederti chi vuole fare digiune e penitenze parte il fatto che mi avviso insomma cioè un direttore spirituale non deve esporsi oltre certo cioè deve dare dei consigli dopodiché senti se vuoi fai pure insomma ma deve fare attenzione perché se questo fa una personalità di questo genere fa mortificazioni o penitenze non crescerà nella santità ma peggiorerà questa situazione ok al tempo stesso però alte attenzione mentre ci sono queste cose si cade una personalità di questo genere generalmente cade in vizi che sono tipici di chi ha una sorta di culto malato del proprio io di gratificazione da qualche parte questo le gratificazioni da andare a cercare la che fa il tabaggismo fumo fumo con un turco l'autoerotismo compulsivo sia che sia uomo sia che sia dono cioè si prende quel piacere che la vita gli ha negato da solo l'alcolismo la stessa cosa il vittimismo la stessa cosa anche qui si trovano delle punte non indifferenti di permonosità perché appena tu ti dici qualcosa questo si sente nuovamente attaccato e si chiude dentro la sua fortezza personalità di questo genere manifestano una grande estrema rigidità nei pensieri e nelle scelte la rigidità anche qui è cosa diversa dalla severità perché la rigidità è un difetto la severità è una virtù i santi sono severi ma non sono rigidi la rigidità è quella incapacità di essere flessibili e quindi di saper valutare le situazioni le scelte le cose sempre dentro un contesto e alla luce delle circostanze concrete in cui uno si trova ad agire interagire e ad operare questo tipo di territorio nelle relazioni presenta anche una forte carica come dire di doppia personalità in che senso? nel senso che si sforza di apparire o di essere non come è ma come lui pensa che dovrebbe essere quindi in quel modo con cui pensa che forse se sono così sarò accettato riconosciuto amato eccetera quindi un dover essere o apparire necessariamente in un certo modo non corrispondente alla sua reale personalità e al tempo stesso una forte manifestazione di intolleranza dell'altro o del diverso da sé l'intolleranza cioè noi dobbiamo sempre pensare un territorio maturo ha le proprie convinzioni pur avendo le proprie convinzioni non è intollerante nei confronti di chi abbia convinzioni diverse può darsi anche che le convinzioni che ho io siano giuste e un altro abbia convinzioni sbagliate oggettivamente ma come mi relaziono con questa persona con l'intolleranza o con il rispetto cioè lo faccio comunque sentire rispettato e prego per lui se posso lo aiuto rispetto i suoi tempi di interiorizzazione e di crescita capite che dietro ogni territorio anche qui ci sono delle profonde ferite c'è tanta sofferenza nascosta tanta tanta e quella sofferenza deve essere guarita ancora altra cosa il territorio rattrappito cioè non so se qualcuno di voi comincia a vedere un pochino per esempio le immagini che anche Gesù ha usato nel Vangelo per esempio la donna guarigione della donna curva le catechesi sulla donna curva io ho sentito qualche bella cosa anche dell'altro amico sacerdote don Fabio il territorio rattrappito o l'uomo dalla mano inaridita è proprio l'immagine plastica di questa altra situazione rattrappito quindi quello che sta curvo d'accordo ripiegato su se stesso le persone sempre un po' passive con un tono vitale basso che hanno tante inibizioni attenzione le inibizioni non sono una cosa buona cioè un conto è il controllo di sé le classiche virtù preposte al controllo di sé sono la temperanza la modestia la castità la continenza l'amitezza quindi ma attenzione l'inibizione è una debolezza non è una virtù la persona virtuosa non è inibita la persona virtuosa sa bene le cose che può e non può fare quelle che deve controllare ma non è inibita c'è una bontà rassegnata è sempre un po' lagnosa sono sempre quei quei cristiani che se uno li vede perdonatevi adesso non voglio apparire un po' il rispettoso scortese dice mamma mia se i cristiani sono così che hanno sempre questa patina di 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 tristezza impressa sul viso questa questa stavagna no dice ma io divento musulmano se devo diventare così no oppure buddista o cintoista facciamo un po' di parcondicio con le altre cioè non può essere insomma è una cosa brutta d'accordo sono le persone che stanno sempre alla ricerca di confermi approvazioni esterne in continuazione in tutti i modi possibili diretti o indiretti d'accordo e creano o si mettono loro stessi in situazioni di dipendenza pazzesca pazzesca dagli altri e qui purtroppo il diavolo se fa incontrare purtroppo una persona di questo genere con un consagrato una consagrata religiosa non ancora esperta quindi che non è in grado di discernere queste cose e si vanno in te succede veramente la fine ecco le classiche dipendenze psicologiche ma ricercate in primis dalla persona stessa e lì ci vuole una grande maturità una grande capacità anche da parte di chi è consagrato di individuarlo e bloccare seduta a stante questi fenomeni oppure cosa molto più difficile una volta che sono sorti cercare di di toglierli di disattivarli non mi viene il termine ho dentro questa personalità siccome chi campa così non campa bene perché c'è sempre questa patina d'accordo di insoddisfazione profonda latente di tristezza c'è una rabbia repressa che a volte sbotta cioè tu vedi una persona così che sembra tutta buona tutta tranquilla remissiva rassegnata eh ambe al giorno gli viene 5 minuti e fa pum rabbia repressa che a volte scoppia o in manifestazioni isteriche d'accordo oppure inscenate ripianti tragedie o cose di questo genere quindi in manifestazioni abnormi tutta rabbia repressa spesso variamente variamente anche somatizzata cioè le persone che sono che hanno in fase diciamo abbastanza abbastanza forte questa fenomenologia relazionale si vanno pure a rovinare la salute gli verrà la luce la grastrica gli verrà qualche altra malattia di origine psicosomatica perché c'hanno dentro un tale acculo camuffato ecco da questa apparente ancora una volta bontà e gentilezza è la segnazione che non c'ha niente di virtuoso però è tutta debolezza io non voglio adesso cioè assolutamente scoraggiare nessuno però dobbiamo dirci un pochino la verità una persona sana e santa si riconosce molti comportamenti di una persona sana e santa sono di per sé come dire anche giusta apponibili ad alcune di queste dinamiche il problema è che la modalità il fine con cui si fanno le stesse cose è completamente diverso completamente un conto è scegliere di essere remissivo dinanzi a una situazione per non creare problemi inutili non trattandosi di cose di morte un conto è avere la bontà assegnata che pur di non andare a urtare qualcuno a bozza perché se no poi perde l'approvazione la considerazione e quindi l'affetto dell'altro poi abbiamo il territorio debordante che è quello sono le persone invadenti cosa oggi molto molto diffusa specialmente nelle nostre società digitalizzate dove sono razza in sempre maggiore via di espansione i famosi leoni da tastiera allora qui si invade il territorio altrui è il luogo delle domande dirette discrete sapeste ricordate quando abbiamo parlato dell'io segreto cioè noi dinanzi ad un'altra persona dobbiamo essere sempre profondamente rispettosi domande di curiosità domande personali ma non si fanno d'accordo e un territorio maturo che è capace appunto di dire sì e i robusti no non è che si lascia mettere in crisi da una domanda invadente oppure per debolezza risponde ti pare che non rispondo dopo faccio il maleducato domanda Gesù ha risposto sempre a tutti nei Evangeli punto interrogativo ha risposto Gesù per esempio a Erode cosa dicono i Evangeli a Erode non gli ha rivolto nemmeno la parola in cui lui ha fatto un sacco di domande allora che vogliamo dire che Gesù era un cafone era un maleducato perché non ha risposto a Erode perché a Erode non c'era nulla da rispondere e ai farisei al termine dei tre anni di vita pubblica l'abbiamo mai letto Matteo adesso non bisogna rifare le stesse cose che ha fatto Gesù mi raccomando ma a Matteo 24 l'abbiamo mai letto serpenti razza di vipere se volcri imbiancati ah 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 cosa fa Gesù insulta il prossimo offende stanno offendendo o no adesso queste cose non possiamo rifarle tali e quali però il concetto è che a volte non consigli ma non è che uno sta sempre come dire ah vito cioè ci sono delle circostanze in cui non bisogna rispondere altri in cui bisogna essere accondiscendenti e altri in cui bisogna dire no 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 questo è il senso no? di questi diversi comportamenti di Gesù qui stiamo già anticipando un pochino i tempi no? Gesù è il modello perfetto noi dobbiamo sempre pensare a lui allora questi invadono il territorio altrui entrano a gamba tesa d'accordo cioè le vite degli altri qui si manifestano le personalità manipolatrici quindi le tendenze a dominare o a manipolare le persone in maniera conscia o inconscia le curiosità in debite l'introduzione degli affari altrui il pettegolare il chiacchierare il famoso chiacchiericcio di cui tante volte ha parlato il Papa sta qui sta che ti chiacchiere tu cioè non si chiacchierano non si si fanno gli affari degli altri i territori debordanti possono anche trovarsi nelle personalità leaders cioè che tendono ad assumere ruoli da leader e chiaramente immaginate che succede quando un territorio debordante incontra un territorio rattrappito ma è proprio la fine capito perché questo figurate trova proprio come dire il massimo capito cioè debordante con rattrappito uguale un dominatore e una personalità completamente dominata soggiogata è la fine è la fine nel concetto di manipolazione purtroppo ci può essere anche in questo territorio che è pericolosetto anche l'uso o l'abuso delle altre persone per sé o per i propri scopi questo può venire nel poco può venire anche nel molto può venire anche nello scandaloso purtroppo la doppiezza la doppiezza brutta la doppiezza è intesa come ipocrisia o la seduzione la seduzione è intesa in senso come dire satanico quindi in senso brutto quindi non in senso siamo anche un po' il clientelismo quindi le personalità che danno quel fenomeno del clientelismo con come dire con non vorrei usare espressioni sconvenienti il clientelismo con il cliente che gli sta dietro capiamo che significa clientelismo quindi le personalità dominanti e i serbetti che stanno lì a dire sempre di sì qualunque cosa dice la personalità dominante insomma capiamo quante dinamiche malate che ci possiamo portare dietro ancora il territorio intasato personalità disordinate sconclusionate allora vedrete poi se fate due risate con le slides perché quando ho fatto queste cose al suo tempo ci ho messo proprio delle foto che erano proprio adatte che sono molto 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 significative qui troverete una stanza piena di cose di scatole di buste della monnezza di scatolette scatole tutte le tante ammucchiate avete visto quando si entra in certi uffici con certe scrivanie che se vuole chi c'è là deve mettersi le mani nei capelli come fa un cristiano a raccapezzarsi qualcosa allora le personalità che vivono senza orari con attività improvvisate pieni di impegni c'erano sempre qualche cosa da fare che si capisce bene che cosa sia d'accordo sconclusionate non concludono niente fanno un sacco di cose non concludono niente troppo estroversi come dire che si prendono cura si prendono si fanno a carico anche dei problemi altrui ma ma problematiche sintomatiche di queste personalità non sono capaci di stare da soli e di riflettere devono sempre fare qualcosa anche questo è la classica è il classico iperattivismo a volte ahimè purtroppo diffuso anche e scambiato tra l'altro con apostolato qui ricordiamo sempre che tra tutte quante le varie forme andiamo indietro con qualche puntata ci sono il chiamare vizio virtù e virtù vizio no? ah no io devo il prete è mangiato quindi io devo stare sempre ah bisogna fare un sacco di cose qui che cosa bisogna fare le cose a tempo luogo momento opportuno la vita di un prete anche se non è quella di un monaco io parlo perché sono un prete ma deve essere ordinata c'è un tempo per la preghiera c'è un tempo per l'amministrazione dei sacramenti c'è un tempo per come dire il contatto personale con le persone c'è un tempo per lo studio per la preparazione c'è un tempo per la predicazione quindi non è che è chiaro che uno non può stare come dire con un programma rigido e per carità è guai se si sgara non è possibile però un po' di ordine nella nostra vita non ci può uno stare incapacità di stare soli incapacità di prendere scelte significative o di vita se una persona in maniera disordinata non fisserà un bersaglio o un obiettivo in maniera chiara determinata risoluta prendendo tutti quanti e usando tutti quanti i mezzi per raggiungere quell'obiettivo costi quello che costi d'accordo non c'è un centro unificatore ci sono soltanto una montagna di impegni di cose di relazioni di scadenze convulse d'accordo e quindi poche conclusioni poca conclusività annaspamento diciamo così affannarsi molto correre senso di ingolfamento che uno si sente obberato di cose da fare molte delle quali potrebbe tranquillamente evitare di farle questo è l'iperattività lavorativa quelli che dicono ah io lavoro anche di domenica uno dovrebbe dirgli bravo perché è un grande lavoratore lavoro 12 ore al giorno e anche di domenica eccolo qua d'accordo? non è una persona come dire oggettivamente incomiabile chi lavora 12 ore al giorno è anche la domenica anche in questo territorio si può trovare il timore di deludere qualcuno poi c'è un ultimo il territorio arcipelago il territorio arcipelago bellissimo in questa immagine sappiamo come un arcipelago sono un insieme di isole quindi che cos'è un arcipelago c'è un po' di terraferma e poi acqua un altro po' di terraferma e poi acqua no? queste sono le personalità che hanno delle zone solide e delle zone evanescenti instabili instabili ambigue ok? quindi che succede? c'è un po' di vita buona ma ristretta a certe aree cioè su questo ci siamo su questo ci siamo ma su altre non ci siamo ci sono zone atone è una personalità la chiamo Don Giuseppe a macchia di leopardo non si è persone chiare per esempio non si dice chiaramente quello che si pensa quindi le personalità camaleonti quelle che accettano tanti compromessi dicono ad ognuno quello che qualcuno vorrebbe sentirsi dire pur di non creare problemi di conservare una buona stima non fare brutte figure d'accordo? può essere una persona capace di collaborazione e anche di condivisione ma al tempo stesso pigra e prevalentemente passiva questa tendenza diciamo ad accettazione di compromessi a volte può portare ad una vera e propria doppiezza ad una doppia faccia a volte ancora ad una doppia vita purtroppo quindi impantanarsi in situazioni contraddittorie ambigue poco chiare questo è il territorio e la personalità la chiamano credo gli psicologi variamente e a vari livelli inconsistente quindi senza radici senza fondamenta senza una base solida su cui fondare la propria esistenza com'è un territorio sano è il cosiddetto terrimono territorio subfruttifero da cosa è caratterizzato com'è una personalità che è già avviata verso un percorso di guarigione numero uno si ha una sana fiducia in se stessi sana fiducia in se stessi perché c'è il problema dell'orgoglio della superbia o della dominazione da un lato e della autocommiserazione vittimismo svalutazione e depressione dall'altro la sana fiducia in se stessi alcuni psicologi la chiamano la sana autostima dipende dal fatto che io ho conosciuto che questo sono queste sono le risorse questi sono i limiti investo umilmente quel poco di bene che ho ascolto e accolgo quello che gli altri mi danno cerco di controllare il meno positivo il limite ecc la sana fiducia in se stessi porta a stare fondamentalmente bene con se stessi e ad avere una indipendenza dagli altri indipendenza dagli altri attenzione questo che significa significa il non dover per forza compiacere chi ci sta davanti il non essere affettivamente dipendenti affettivamente legati il non dover cercare la stima la considerazione altrui l'affetto altrui eccetera eccetera questa è l'indipendenza questo non significa che non si abbiano delle buone relazioni anche affettuose in senso buono i cristiani vivono nella carità non vivono nella come dire nel gelo nel ghiaccio ma altro è la carità altro è la dipendenza un'altra cosa un territorio fruttifero dentro un territorio fruttifero si ha coscienza delle proprie risorse perché non è da umili dire io faccio schifo no tu come tutti gli esseri umani hai delle qualità abbiamo già visto nei temperamenti delle risorse e c'hai dei limiti o dei vizi se preferisci chiamarli così da correggere da controllare o vedremo poi no perché le cose negative di noi stessi prospettano una triplice possibilità di intervento alcuni vizi ce li possiamo togliere altri vizi possiamo diminuirli altri non ce li possiamo né togliere né diminuire ma possiamo imparare a gestirli in maniera tale che non facciano danni è proprio del percorso di crescita sapere cosa posso puntare a togliermi cosa non mi toglierò ma devo soltanto puntare a diminuire 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 e cosa è talmente viscerato che lo potrò soltanto gestire niente non è allora coscienza delle proprie risorse si coltivano per raggiungere degli obiettivi possibili il territorio fruttifero è capace di raggiungere obiettivi a breve o anche a lunga scadenza andare in paradiso figlioli miei cari è un obiettivo a lunga scadenza passare un esame è un obiettivo a breve scadenza tanto per fare qualche esempio poi si mettono dei sali paletti nel senso che le persone che entrano in contatto con me non sono autorizzate a fare intrusioni in debite parliamo dei preti facciamo un pochino di esempi da prete io non sono affatto d'accordo assolutamente sul chiamare un prete per nome un prete non si chiama per nome e il prete non deve permettere di essere chiamato per nome e non deve temere di apparire superbo per questo perché non farsi chiamare per nome non è un fatto di superbia d'accordo ma è un modo perché la persona che ti sta dinanzi si ricordi che sta dinanzi a un prete te lo ricordi anche a te che sei un prete che non ti puoi relazionare con lui come se prete non lo fossi perché un prete è prete sempre non è prete soltanto quando sta sull'altare o quando sta in confessionale è prete sempre d'accordo per esempio non voglio parlare di me ma chi mi conosce lo sa io ho fatto la scelta e la mantengo di non interfacciarmi con le persone per motivi sacerdotali e pastorali attraverso messaggistiche messaggini whatsapp in pitch e in voglia lo sanno benissimo non è utile che mi scrivano messaggi non rispondo a messaggi c'è un motivo per cui ho fatto questo d'accordo perché questa modalità relazionale per le relazioni sacerdotali non è positiva esperienza vissuta io di questo me lo sono convinto e quindi questo è un paletto questo qui vuoi parlare con me mi vieni a trovare mi fai una telefonata negli orari in cui sono disponibile per poter rispondere perché non sono sempre disponibile per poter rispondere al telefono ma non perché non voglio perché ho anche altro da fare d'accordo oppure mi fai una mail avendo la pazienza di aspettare che trovi tempo e modo di leggerla e di risponderla d'accordo e quindi questi sono paletti sono paletti pensati potrebbero anche essere sbagliati d'accordo non sono solo di dubbio ma sono pensati riflettuti e che cercano di tutelare il bene delle persone e il bene anche del mio ministero non si può non avere nessun tipo di se un parrocchiano chiede l'olio santo o chiede di confessarsi o è morto qualcuno non ci sono rari un prete è H24 d'accordo specialmente senza che nessuno si ingelosisca i parrocchiani perché io sono stato mandato dal vescovo in questa parrocchia poi è chiaro che il ministero sacerdotale come tutti quanti sanno non è limitato a un territorio che è per la chiesa intera quindi il cuore di un sacerdote è aperto a tutti d'accordo ma anzitutto evidentemente alle persone a cui il signore attraverso la chiesa ti ha mandato che hanno evidentemente come dire un ovvio e canonico diritto di prelazione io a questo devo farci attenzione perché sono parroco da un punto di vista ecclesiale anzitutto scusate se faccio esempi un po' personalizzati ma questo poi chiaramente una persona sposata può avere rapporti disinvolti e tranquilli con chiunque senza nessun paletto io ho molti dubbi molti dubbi e non possiamo fare finta di niente o pensare alla cappuccetto rosso ah no per me non c'è nessun problema io posso tranquillamente inoltrarmi in questa foresta tanto la situazione la tengo sotto controllo questa è la sindrome di cappuccetto rosso allora dentro il territorio Sanò si conoscono e si affrontano con serenità con serenità cosa le proprie zone d'ombre i propri limiti e anche i propri difetti vuoi sapere quanto sei riconciliato sei capace ci lo siamo detti all'inizio di dire serenamente sette buone qualità e sette difetti veri però che quando tu te lo dici da solo non devi dire al prossimo te lo devi dire a te stesso dici è proprio così sei capace le zone d'ombre dobbiamo affrontarli i limiti dobbiamo affrontarli i propri di nostri difetti dobbiamo affrontarli perché se non li affronto io non li affronta nessuno al posto mio il senso di quello che stiamo facendo cioè di quel di quello che queste catechesi intendono mettere a disposizione per aiutare chi vuole camminare un po' è che tu cominci a prenderti cura di te stesso perché se non ti prendi cura te di te stesso chi si prenderà cura di te il nostro Signore si prende certamente cura di te d'accordo ma come diceva Sant'Agostino Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te cioè la cura che lui si prende di te esige una tua responsabilizzazione nel curarti di te nel suo nome con il suo aiuto certamente un'altra cosa come sono il territorio fruttivo ottime relazioni con gli altri relazioni cordiali propositive grande capacità di dialogo scambio sereno e rispettoso il rispetto noi dobbiamo darlo a tutti nessuno escluso modalità distruttive cretino stupid tu capisci non esistono dentro cioè dentro una personalità riconciliata risolta rinata altra cosa tipica di un territorio fruttifero è la capacità di lavorare in gruppo impegnarsi in un progetto comune anche qui non non imponendo sempre dovunque e comunque proprio parere parlando di ascoltare anche gli altri a prendere le cose positive che gli altri mi possono dare non sparare subito a zero non esiste persona talmente come dire poveraccia o talmente cattiva che non abbia qualcosa di buono da darci io presento il mio apporto con estrema umiltà se viene ritenuto in come dire non adeguato o inutile e non fa niente cioè non devo dimostrare niente a nessuno ho detto una cosa che mi pensavo che ritenevo giusta non è condivisa è pazienza non succede niente in modo attivo lo stesso anche se non vengono sposate le le mie idee capite chi è che non che vedendo una cosa di questo genere non lo desidera ecco allora tutto questo è possibile raggiungerlo certamente per raggiungerlo continueremo a vedere già dalla prossima volta bisogna lavorarci un po' ma non abbiamo paura di lavorarci un po' perché il Signore è dalla nostra parte e non vede l'ora lui di vederci così perché possiamo produrre tanti frutti come dice Gesù nel Vangelo e questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutti e il segreto sarà diventare autenticamente discepoli del Signore discepoli in greco significa coloro che imparano tante cose si mettono umilmente a scuola del Signore Gesù e imparano edo c'erano tante cose da insegnarci belle ecco e ce le insegnerà nella misura in cui gli apriamo le porte del cuore bene ci vediamo se Dio vuole la prossima settimana che Dio sempre vi benedica e la Madonna vi protegga alla prossima e a presto